Perfetto Sì, c'è lì, c'è lì. Grazie mille. 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 mi raccomando anche a quattro cittadette ricordate le ragazze perché non sono attivati ad averlo in gara quindi magari non sono proprio per farmi la canali dell'attività nella mia modetta se avete qualche domanda l'ultima cosa le rotonde le facciamo schieste adesso chi le prende a sinistra ho segnalato abbiamo solo uno spazio idratico che non c'è anche a via se non dovete spostare perché non c'è anche non c'è anche a via non c'è anche a via non c'è anche a via quindi io Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.